ciao a tutti quando inizia la storia la storia ha una sua data di inizio quando inizia la scrittura lo storico per ricostruire il passato ha bisogno di documenti scritti prima parliamo di preistoria vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia ciao ci vediamo al prossimo video ciao